buongiorno sempre da Matteo Barberi in questo terzo video entriamo ancora in alcune domande che saranno utili per sviluppare il tuo progetto di formazione online che ti permetteranno di pensare prima ancora di agire ma in realtà faremo entrambi perché andremo subito ad agire in termini di attività ma lo faremo insieme pensare agire cioè avere una velocità nel fare parliamo di un tema interessante che è spostare la linea del gratis questa è una tecnica utilizzata proprio per sviluppare progetti per chi va sul mercato della vendita cioè va a vendere un percorso un corso online e ha bisogno di questo mais cioè spostare la linea che cos'è allora spostare la linea? la vediamo subito insieme quali sono i benefici nello spostare vorrei farvi vedere velocemente subito questa questa immagine che può essere sicurezza cosa vuol dire? vuol dire che noi andiamo a togliere quella parte che ci può dare un po' fastidio cosa vuol dire? più io do valore valore nel corso della mia comunicazione al mio possibile cliente io otterrò maggior prezzo per quello io se la policy e questo vi do come consiglio chiunque oggi va online troverà sempre qualcuno che fa il prezzo più basso di voi se mi chiedete oggi volete fare business online e andate su quelle piattaforme che possono essere Udemy ottime piattaforme ma volete fare business io vi dico se lavoriamo sulla linea del prezzo del prezzo per quello prezzo a ribasso io posso dire avete già fallito prima di partire per quello io lavorerò nel creare dei contenuti di valore che possono essere i webinar lavoro sui social network content marketing creo un brand creo una mia autorità allora più aumenta l'autorità cioè contenuti free più io potrò andare a chiedere al mio possibile utente un prezzo alto questa è l'unica cosa sul quale noi dobbiamo ragionare ancora in fase progettuale ecco perché nel video precedente abbiamo parlato di lettera di vendita perché scritturerà questa decisione che noi andremo a fare tutto questo la mancanza di questa valutazione e analisi porterà a fare le cose errate e vuol dire fallire un progetto formativo allora è ovvio che per quale motivo allora io vado ad alzare i prezzi attenzione abbiamo due tipologie di persone che vanno a sostanzialmente a che tipologie di persone e di clienti voi volete cercare voi cercate persone che cercano il prezzo o cercano il valore e questa è la domanda per cui dovete porvi in cui cercate un progetto perché c'è chi cerca solo il prezzo ma chi cerca il valore è ovvio che i due business sono completamente diversi se vado su quello che cerca il prezzo io mi impantano e rischio la morte che sarebbe low price light ticket mi permette di progettare e di avere un rendimento se sto nel limbo del mediocre come diceva qualche buon guru e maestro del posizionamento io ovviamente muoio per quello è o super basso che ha delle economie di scala cosa che non possiamo sicuramente affrontare la maggior parte di noi ok andiamo su light ticket perché sposta ovviamente il mondo non abbiate paura di questo il concetto ma dovete lavorare perché poi collegato al valore più valore do più io posso chiedere ovviamente un prezzo parlo di valore percepito dall'utente attenzione questo dettaglio valore percepito dall'utente che non vuol dire restare sei anni a costruire un corso ok poi attenzione che è una cosa che funziona benissimo e ve lo dico da un punto di vista in questo caso didattico quando propongo il prodotto io posso sempre ve lo consiglio di proporlo almeno su due livelli diversi cioè io ho il corso di marketing strategico o una serie di coaching perché il coaching rientra nella serie nell'ambito del prodotto formativo io posso avere coaching base e avanzata la differenza non è così marcata tra i due prodotti ma uno può valere 5.000 e l'altro 15.000 euro ok come se cambierà il numero magari di di coaching cioè il numero di ore ma cosa permette quello che viene chiamato in marketing formativo quello che si chiama l'ingaggio che cos'è l'ingaggio l'ingaggio è fondamentale perché l'ingaggio è quello che porta l'utente a usufruire del corso attenzione se io non ho persone che non fruiscono cioè nel corso online magari lo faccio blended ma non fruiscono cioè vuol dire che non lo guardano e non lo mettono in pratica attenzione a questo dettaglio il non agire perché se il valore che voi date in un corso visto già nei video precedenti è che lui agisca nel fare quel percorso formativo ma se non agisce e di fatto non ha risultati ok quello non è un buon portatore di valore e si è visto da tutte le statistiche che oggi potete cercare online da tutti gli studi di qualunque diciamo università o centro di ricerca che più è più elevato l'ingaggio cioè più l'ingaggio è di più quanto io pago tradotto in soldoni più io pago più io sarò concentrato nel vedere tutto il video di seguire quella persona perché ho pagato di più per quello ci devo stare a seguire voi ci sono e se ci sono i risultati arrivano e quelle persone e la media vi do una statistica ultima ricerca appena sfornata proprio dice che la differenza tra un pacchetto starter e un pacchetto ad vasico una differenza anche del doppio di prezzo del doppio di prezzo porta avere un ingaggio quasi totale di persone sul prezzo piacere di persone che vanno ad acquistare un prodotto diciamo che potenziamo a 15.000 euro per dare un'idea viene applicato e visto e finito è applicato al 100 per cento delle persone se vendo a 5.000 solo il 50 per cento della mia audience andrà a terminarlo e applicarlo questo cosa ci dice tutto questo cari colleghi o cari amici che dobbiamo ragionare sulla linea del gratis e capire che se noi ragioniamo sul linguaggio e su un impegno fatto prima allora il nostro mindset nella costruzione di percorsi formativi abbiamo già siamo già a metà del nostra opera adesso vi ringrazio anche in questo in questo video per chiunque voglia fare una consulenza free con me e con il mio team poi trovi sempre ovviamente il link per chiedere e vedere di come si può sviluppare un progetto di analisi e di business nella formazione online grazie per voi per adesso e buona giornata da Matteo Barberi